Buongiorno e buon 2 giugno. L'articolo 33 della nostra Costituzione recita che l'arte e la scienza sono libere e ne è libero l'insegnamento. La musica, oltre ad essere arte, è una straordinaria forma di comunicazione che suscita in chi ascolta ricordi ed emozioni. Di ciò sono grata alla Scuola di Musica Città di Novate che offre alla nostra cittadinanza questo piacevole momento. Il 2 giugno è la festa degli italiani e nulla più dell'arte e della musica può rappresentarci nel mondo ed esprimere il senso di unità nazionale e i valori di libertà e democrazia che sono contenuti nella nostra Costituzione. Non dimentichiamo mai questi valori e continuiamo ad ispirarci al bello, all'arte e alla piacevolezza delle note musicali. Auguri per la festa della nostra Repubblica. Auguri inovatesi. Auguri per la festa della Repubblica. Auguri per la festa della Repubblica. Auguri per la festa della Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Viva l'Italia, presa tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento, l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura, viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare, l'Italia metà giardino e metà galera, viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia è metà dovere e metà fortuna, viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre, l'Italia con le bandiere e l'Italia nuda, come sempre. L'Italia con gli occhi aperti nella notte triste, viva l'Italia, l'Italia che resiste. L'Italia con gli occhi aperti nella notte triste, viva l'Italia, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste, viva l'Italia. L'Italia con gli occhi aperti nella notte triste, viva l'Italia che verso la Lara. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti